salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel tale ale eccoci qui con questo video un po particolare perché il video numero mille siamo arrivati a mille video quindi ho deciso di fare questo questo video chiedi a quel tale ale cioè un fuck you time una risposta alle vostre domande l'avevo detto su facebook sulla pagina facebook quindi risponderò ad alcune delle domande che mi sono state fatte lì sul post messo su facebook sulla pagina facebook e approfitto allo stesso modo per invitarvi tutti quanti a seguirmi anche appunto lì sulla pagina facebook perché come vedete alcune cose le trovo più facili come post alcune comunicazioni altre cose anche per chiacchiereare alcune volte con voi quindi mi raccomando seguitemi anche sulla pagina facebook tra l'altro approfitto anche per dirvi che ho aperto un account twitter adesso devo un attimo capire un po come funge ma sono anche su twitter trovate comunque tutto in descrizione neanche la pagina google plus perché inizierò cioè inizierò per forza dobbiamo utilizzare anche google plus quindi visto che praticamente per commentare per continuare ad utilizzare youtube c'è bisogno di utilizzare google plus approfittate e potete seguirmi anche sulla pagina del canale la trovate lì se volete potete aggiungermi tra le ricerche insomma fate un po come vi pare io allora adesso vado subito con le domande ragazzi perché ce ne sono parecchie cercherò di rispondere a più possibile adesso non ho visto un po tra l'altro non dirò i diciamo i nomi di chi mi ha fatto queste domande perché diciamo ho fatto una lista poi le ho raggruppate alcune domande le ho messe insieme altre che mi hanno fatto più persone quindi giustamente dovrei fare una lista di nomi eccetera eccetera e altre come detto le ho inserite tutte in un'unica domanda alcune invece che ho trovato particolarmente interessanti o che comunque gli voglio dedicare un video a parte è già successo qualcuno mi aveva chiesto tra ps4 e xbox one ci ho fatto il video dedicato ma anche per altre domande lo farò quindi diciamo che questa cosa di chiedi a questa leale potrebbe essere una tra virgolette rubrica quindi adesso ci organizziamo per fare un po di queste domande e periodicamente magari vi risponderò in questi video così ma veniamo alla prima domanda che naturalmente non può che non essere quella perché non ti mostri al pubblico domanda che mi avete fatto mi continuate a fare mi avete fatto da tantissimo tempo io tra l'altro ho risposto già sul 1000 1300 volte però vabbè diciamolo così in video perché almeno arriva un po' a più persone perché naturalmente rispondendo nei commenti non tutti leggono i commenti quindi magari qualcuno o meglio tanti se lo sono persi o magari nuovi arrivati che possono chiederselo semplicemente perché ragazzi ho deciso di mantenere youtube e vita privata separati cioè non che ci sia niente di male nel mischiarle ma io preferisco che youtube si fermi quando mi alzo dal pc voglio che sia separato appunto da quello che è il mio privato quindi non vedo la necessità di mostrarsi per forza al pubblico che ti segue certo magari ci può essere un po' più di feeling tra virgolette tra chi ti segue e chi fa youtube ma io credo che non sia il fatto di mostrarsi a creare più feeling perché io credo di cioè almeno spero di dimostrare abbastanza disponibilità nei vostri confronti cioè cerco di rispondere sempre a tutti chi mi contatta mentre c'è chi comunque che si mostra e comunque se ne frega altamente diciamo di chi lo segue cioè si mostra sì però poi magari non risponde ai commenti non quindi io voglio creare sì un rapporto con voi con chiacchierando su questa che è la nostra passione però comunque voglio che le due cose rimangano separate che non ci sia un intreccio tra vita privata e youtube quindi diciamo preferisco rimanere così nel buio nell'oblio scomparirò come batman no non è vero no no una batcaverna purtroppo o forse per fortuna perché i pipistrelli non è che mi stanno molto simpatici sono soltanto dei fottuti topi volanti comunque passiamo alla seconda domanda allora altra cosa che forse mi ero dimenticato di dire sicuramente mi ero dimenticato di dire non ho detta tutti quelli che mi hanno chiesto cose riguardanti youtube come mi hanno aperto il canale perché qual è la mia intenzione obiettivi eccetera eccetera sono cose che io praticamente ragazzi ho già detto nel video di ringraziamento dei 20.000 iscritti cioè l'ultima volta che l'ho detto l'ho detto nel video dei 20.000 iscritti quindi per chi mi ha chiesto domande riguardanti il canale cioè perché lo faccio perché l'ho fatto perché mi diverto o non mi diverto naturalmente mi diverto altrimenti non lo farei comunque trovate tutto nel video di ringraziamento per i 20.000 iscritti quindi magari i nuovi iscritti o comunque chi si è fatto queste domande andate a vedere quello e trovate tutte le risposte del caso è un video a cui in cui ho parlato di molte cose quindi per chi se l'è perso magari andate lì e seguitelo quindi proseguiamo con le altre domande che era praticamente uno o più di voi tra l'altro era una domanda che mi avevano già chiesto in tanti come faccio a registrare come mi allora praticamente naturalmente ragazzi ci vuole una scheda di acquisizione io ho già fatto un unboxing tra l'altro è stato uno dei miei primi video della scheda di acquisizione della ver media e continuo ad utilizzare quella su console anzi in realtà ne avevo acquistata anche un'altra sempre della ver media che il game capture hd è il primo che ho acquistato cioè sul canale video tutorial e l'unboxing e per quanto riguarda come detto la seconda scheda di acquisizione avevo comprato il live game portable della ver media perché aveva qualche funzionalità in più tra quali alcune che mi erano molto utili alcune le riesco ad utilizzare che sono ad esempio quella di registrare dal pc perché come sapete il mio pc è morente è vecchissimo quindi per registrare con i programmi non ce la fa sostanzialmente a mantenere la registrazione e a far girare appunto il gioco quindi con quella riesco a registrare un'altra cosa importantissima che volevo fare era lo streaming tramite twitch infatti questa scheda di acquisizione aveva la possibilità di fare streaming visto che appunto il mio pc non è che gliela fa anche tramite console si può fare streaming infatti mi ero aperto anche un canale twitch tv che poi non ho più utilizzato praticamente perché appunto ho sostanzialmente devo formatare il pc perché il programma di installazione per fare streaming diciamo mi da qualche problema effettivamente il pc è da un po' che devo formatarlo però sapete come sono che io mi tiro vado per le lunghe quindi per formatare bisogna prepararsi psicologicamente a rinunciare a tutti quei programmi installati per poi rifare tutto e sono abbastanza pigro quindi vedrò prima o poi di farlo comunque uso una scheda di acquisizione della vermina ma ce ne sono tantissime adesso vedremo come sarà anzi per quanto riguarda lo streaming anzi approfitto con la nuova con le nuove console si potrà streamare direttamente quindi poi ci risentiremo per il canale twitch tv che volendo potete già trovarlo io avevo provato a fare qualche prova perché quando me l'avete chiesto mi è venuto lo sfizio di provare a vedere se riuscivo a fare qualche streaming solo con il pc e qualcosa è uscito ma è molto scattoso adesso non so se sia sempre per causa del pc o per la mia connessione merdosa ma probabilmente un compattamento delle due cose comunque se volete potete trovare il canale su twitch che è quel taleale tv scritto quel taleale normale come qui sul canale più tv in grande attaccato alla fine quel taleale non era disponibile lo so comunque quel taleale tv se qualcuno vuole iscrivere ma poi comunque farò un video a parte quando riuscirò a fare i streaming perché gli streaming mi piacerebbe farli perché come detto avevo aperto quel canale 6 mesi fa quando ho preso quella scheda di acquisizione proprio per farlo poi non li ho potuti più fare perché è una cosa che mi piacerebbe fare gli streaming poi veniamo invece ad altre domande diversi di voi mi hanno chiesto il gioco preferito ma come ragazzi il gioco preferito l'ho detto milioni di volte il gioco preferito è sul canale lo stiamo facendo adesso è il primo metal gear solid quindi assolutamente chi mi ha chiesto qual è il mio gioco preferito chi è interessato seguitelo assolutamente perché il primo metal gear solid uscito per playstation 1 nel 1998 lo stiamo facendo adesso stiamo facendo il let's play quindi mi raccomando andate a seguirlo altrimenti dovete fustigliarvi sui maroni perché non vi potete perdere un capolavoro del genere ricollegandomi al gioco preferito c'è chi mi ha chiesto qual è la generazione di console o comunque la console a cui tengo di più quella che ho più amato allora devo dire che ci sono due console che porto maggiormente nel cuore è una diciamo forse perché è stata la prima console casalinga che è stata il super nintendo ma devo dire la verità che comunque è stata una console dove avevo pochi giochi e quindi l'ho sfruttata tra virgolette poco perché comunque ci ho giocato parecchio con il mitico donkey con country che trovate anche questo sul canale spettacolare ma la console che sinceramente porto più nel cuore nel cuore nel cuore quella diciamo che mi vorrei portare in un'isola deserta se dovessi essere abbandonato lì naturalmente ci deve essere un attimo di elettricità nell'isola deserta comunque deve essere assolutamente la prima playstation assolutamente senza ombra di dubbio vorrei mettere sopra tutte le altre la prima playstation è quella a cui mi sono dedicato forse di più ma oddio forse anche no però ci sono altre console che comunque ho sfruttato tanto ma quella la porto veramente nel cuore giochi qualunque cosa è stata una generazione per me spettacolare quindi la risposta è prima playstation e venendo sempre ai generi queste domande diciamo a livello di gusti qualcuno mi ha chiesto quali generi di giochi preferisco io in realtà non ho un genere di gioco preferito diciamo che forse quelli che preferisco di meno tra virgolette sono i picchiaduro e jrpg li preferisco di meno non non per particolari motivi diciamo forse più che altro perché ad esempio va bene picchiaduro a parte il fatto che sono scarsissimo però ci ho sempre giocato ma non li prediligo cioè ai tempi giocavo a Tekken in sala giochi però comunque sono stato sempre una sega e in generale non mi sono mai particolarmente appassionato a questo genere i jrpg diciamo che pian piano forse da quest'ultima generazione sto iniziando ad apprezzare un pochino di più però comunque ancora non riesco appassionarmi soprattutto per i combattimenti a turno diciamo sono una cosa che un po allora quello che mi dà più tra virgolette fastidio sono i combattimenti a turno e gli incontri casuali e quando queste combinazioni iniziano a diventare un po' troppo frequenti mi è capitato in alcuni jrpg di dover fare tipo dei chilometri a piedi ogni 5 metri appariva un qualche mostro quindi c'era qualche cosa qualche incontro casuale e lì sinceramente mi fracasso i maroni e quindi lo abbandono diciamo che è questo un po' il fatto che non mi ha fatto gustare tantissimo il jrpg però come detto in quest'ultima generazione li sto apprezzando ad esempio Lost Odyssey è stato uno dei titoli che mi è piaciuto veramente tanto per quanto riguarda sempre la questione dei gusti diciamo ci sono state un po' di domande su film, libri, serie tv, musica eccetera eccetera e qualcuno mi ha chiesto se leggo manga allora rispondo subito no manga non ne leggo non sono diciamo mai stato un appassionato di fumetti ma non per qualcosa perché di solito sono anche passioni che si tramandano tra amici e cose del genere però non c'è stata mai questa cosa di leggere fumetti o manga quindi no non ho mai avuto diciamo questa passione non mi ci sono mai avvicinato poi naturalmente potrebbe anche piacermi però è meglio che non mi ci avvicino perché già mi dissanguo con i videogiochi ci mettiamo pure i manga mi devo impiccare quindi no per quanto riguarda film, libri e serie tv e anche musica allora devo dire qui la cosa è un po' difficile risponde soprattutto per libri e serie tv perché diciamo che io leggo e guardo diverse serie tv leggo abbastanza e in linea generale cerco di leggere libri cioè mi informo prima diciamo non vado molto a comprare libri alla cazzo di cane diciamo quindi sostanzialmente non vado mai a comprare libri che mi facciano cagare e allo stesso tempo però non ho un libro che consiglierei sopra di tutti nel senso ne consiglierei tantissimi ma ogni libro ha la sua particolarità ogni libro ha una sua storia da raccontare un tipo di scrittura che comunque ti riesce ad immergere nella storia ci sono libri che ci riescono di più, libri che ci riescono di meno, poi dipende anche dal tipo di libri, ci sono romanzi così come leggo anche libri che trattano tra virgolette di argomenti un po' meno romanzati quindi non so inchieste, documentari eccetera eccetera però in linea generale se un libro è scritto bene anche questo tipo di libri che tra virgolette potrebbero risultare più pesanti diventano molto ma molto interessanti perché come dico molto spesso la realtà supera qualunque fantasia quindi leggere alcuni documentari o libri che parlano di inchiesta è anche molto ma molto interessante certo capisco che possa essere un po' più pesante rispetto ai libri magari romanzi eccetera eccetera però in alcuni periodi mi piace leggere anche quelli perché come detto leggo anche un po' a periodi ci sono periodi che leggo tantissimo periodi invece che non tocco un libro diciamo va un po' come così a sensation e la stessa cosa per il coso dei libri ci sono momenti in cui mi piace leggere romanzi quindi rilassarmi di più entrare più nella storia ma comunque libri in generale ce ne sono tantissimi quindi non ho sinceramente un libro preferito perché nonostante appunto legga molto e mi piacciono parecchi tipi di libri cerco sempre di comprare libri diciamo informandomi prima quindi non comprando cacate eccetera però non ce n'è uno che prevale sugli altri così come le serie tv le serie tv diciamo ce ne sono più che abbandono diciamo hanno meno appeal dei libri però comunque ci sono molte serie tv che seguo che ho seguito quindi così a pelle non saprei dirvene una me ne vengono in mente decine e decine perché le seguo da tempo cioè da quando ero piccolo c'erano delle serie tv spettacolari e adesso ce ne sono sempre delle altre quindi è una marea una valanga di serie tv sia belle che brutte ma se ve ne dovessi consigliare una sinceramente non saprei ce ne sono veramente tantissime mentre per quanto riguarda i film qui invece ho in mente il film che vi consiglierei che naturalmente è un film che ho amato che sono le ali della libertà che il titolo originale è The Shawshank Redemption che tra l'altro è ripreso da un romanzo di Stephen King che sono se non sbaglio stagioni diverse tra l'altro stagioni diverse sono quattro mini racconti tra virgolette questo è uno dei quattro mini racconti e tra gli altri sono anche altri due racconti che hanno preso su cui ci hanno fatto dei film tra cui Stand By Me questo me lo ricordo il film perché l'ho rivisto diciamo neanche tanto tempo fa però le ali della libertà ragazzi è un film vedetelo è stupendo ci sono Tim Robbins e Morgan Freeman veramente un film bellissimo poi naturalmente ce ne sono tantissimi che amo c'era una volta in America Scarface, Paladino, Blu e ce ne sono tantissimi ma se devo dirvene uno sicuramente vi dico le ali della libertà perché è un film straordinario venendo invece cos'altro me lo dico? Musica allora musica anche qui diciamo che vabbè la musica diciamo un po' come tutte le cose è una cosa che va con l'età più si va avanti e più si apprezza un certo tipo di musica tra virgolette io devo dire che un cantante, ho ascoltato molti tipi di musica ma un cantante che mi accompagna da sempre un artista che mi accompagna da sempre che mi è piaciuto sin dall'infanzia, dall'adolescenza tra virgolette e continuo a portare nel cuore sicuramente è Bob Marley Bob Marley è uno degli artisti musicisti che più amo o amato e stimo quindi veramente mi piace tantissimo, non mi annoio mai cioè per tantissimi anni di solito come detto la musica anche va a periodi, c'è un periodo in cui magari senti un tipo di musica un periodo o un altro ma in linea generale Bob Marley per quanto mi riguarda qualunque periodo fosse qualunque tipo di musica mi piacesse in quel periodo Bob Marley sempre e comunque ci stava benissimo e continuo a starci ancora adesso quindi musica preferita diciamo il genere reggae si mi piace non è che sia il mio preferito però se vi devo dire un artista poi magari mi piace più tipo il rock anni 60 barra 70 diciamo i Creedence Clearwater Revival per me sono spettacolari però a livello di artista se ve ne devo dire uno vi dico Bob Marley sicuramente è uno di quelli che apprezzo di più e venendo ad altre domande allora la prima console che hai avuto allora qui la prima console che ho avuto diciamo che all'epoca c'era una cosa che le console soprattutto le console portatile allora devo dire che qui la cosa si complica un po' perché a parte che non ricordo benissimo ma più che altro tempisticamente cioè ricordo che ad esempio la prima console portatile che ho avuto che è venuta prima del Super Nintendo è stato il primo il primissimo Game Boy il mattone bianco con i pulsantoni rosa che tra l'altro che tra l'altro ho ancora ed è anche funzionante vorrei vedere se le nuove console funzioneranno così dopo 20 anni e passo no di più di 20 anni quello è uscito nel non lo so forse 22 anni che ce l'ho probabilissimo però all'epoca come vi dicevo c'erano dei sempre console portatile però a gioco singolo cioè c'erano anche delle singole console portatile dove c'erano appunto dei giochi un po' demenziali cosa del genere diciamo la prima console serie è stata questa copiata no non è vero perché poi un altro pc che era un vecchio IBM lo utilizzai dopo quando avevo già il Super Nintendo sì no allora ripensandoci devo dire che forse la prima serie a console che ho avuto è stato il primo Game Boy bellissimo poi c'erano come detto quelli a parte non so chi si ricorderà qualche vecchietto con le scarpe di Bulbo e regalo il videogame ma altri tempi che ve lo dico a fare voi siete giovani io sono giovane dentro però va bene allora io direi ragazzi che ci sono tante altre domande che mi avete fatto però siccome vorrei mantenere questo video piuttosto breve già siamo andati per le lunghe direi che per oggi per questo video va bene così con queste domande io naturalmente vi ringrazio tutti quanti per avermi posto queste domande e vi dico magari allora per questa volta io poi per le domande come ho detto questa volta le ho fatte sulla pagina Facebook poi la prossima volta magari le faremo una volta una parte una volta un'altra anche per vedere un po' magari chi mi segue su Facebook e non mi segue qui quindi mi ha potuto fare delle domande chi mi segue qui sul canale adesso potrà fare domande perché magari sotto questo video per il prossimo che come detto sarà una rubrica ma diciamo che la mia costanza non so perché comunque voglio portare avanti altre serie quindi questa magari infilerò un video ogni tanto giusto per rispondere a qualche domanda così qualche altra domanda come detto me la terrò altre magari che mi hanno colpito mi sono piaciute le tratterò parti in singoli video perché ci sono state come detto tante domande queste sono state alcune a cui ho risposto ce ne sono tante altre che comunque mi sono segnate tutte quindi alcune va bene naturalmente non c'era neanche bisogno di rispondere perché sono cose a cui rispondo quotidianamente però per altre domande comunque risponderò in un altro video per quanto riguarda questa rubrica chiedi a quel taleale ragazzi io per questo primo appuntamento vi saluto con questo millesimo video un giro di boa mille video una tonnellata di roba va bene comunque io vi ringrazio per aver seguito questo video ragazzi mi raccomando tutti gli indirizzi ve li avevo detti già all'inizio se volete fare domande per il prossimo video scrivetele qui sotto questa volta nel video qui su youtube e noi allora ci vediamo con il prossimo appuntamento di chiedi a quel taleale mi raccomando seguite le serie mi raccomando soprattutto c'è metal gear perché mi ha questo gioco preferito metal gear assolutamente seguito c'è anche zelda di retro game e poi ci sarà altro comunque ragazzi io vi ringrazio per aver seguito questo video un saluto a tutti da quel taleale